No ai continui blitz anti-abusivismo da parte delle forze dell'ordine, un accanimento ingiustificato nei confronti di un quartiere, di un mercato storico della città di Palermo. Protesta questa mattina dei commercianti di Corso Finocchiaro Aprile in città. Sono state posizionate barriere al centro della strada bloccando il traffico. Una manifestazione organizzata contro i vigili urbani e contro la polizia e a favore dunque della libertà di commercio, in pratica a favore dell'abusivismo commerciale e contro le multe elevate a decine di commercianti e a centinaia di auto dei clienti parcheggiati in doppia fila. Un particolare quest'ultimo che porterebbe gli acquirenti a cambiare zona per i loro acquisti. Noi ha quattro mesi che non riusciamo più a lavorare, riusciamo a lavorare perché ovviamente non permettono a nessuno di potersi fermare, non c'è tolleranza, non c'è un minimo di collaborazione, però quello che noi vogliamo fare, siamo qua ovvio che i vigili urbani fanno anche il loro lavoro, però quello che vorremmo spiegato noi dal sindaco, dall'assessore o dal comandante dei vigili urbani, come mai c'è questo presidio stabile che è solo a Palermo esiste, in nessun'altra parte della città c'è qualcosa del genere, siamo quasi una ronda, quasi a livello militare, vorremmo capire perché ci devono penalizzare questa zona, questo centro commerciale che per noi è fondamentale perché viviamo quasi mille famiglie, staremo qui tutto il giorno in attesa che qualcuno si presenti dall'amministrazione comunale per venirci a dire quello che dobbiamo fare, altrimenti siamo costretti, il nostro malgrado, di prendere le chiavi, le licenze, andare al consiglio, al comune di Palermo, consegnare le nostre licenze e chiedere un sussidio come lo chiedono i Rom, come lo chiedono i vari extracomunitari.